Io sono di sinistra e rivendico il fatto che Israele non vuol dire destra e Palestina non vuol dire sinistra. Mi faccio dire ancora questo, un odio anti-ebraico tremendo anche nei termini che tu usi, gravissimo, 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 si dà la stura nello spazio pubblico, dai la stura a un odio anti-ebraico vergognoso come quello che c'è stato nella manifestazione. Save the children, a Gaza un bambino morto ogni 10 minuti. Ma io questo l'ho detto, io questo l'ho detto. Sto parlando un po' di educazione. A Gaza un bambino ucciso ogni 10 minuti. Dichiarazione del presidente Lula, di sinistra, un tempo anche sostenuto dalla professoressa. Non si tratta di discutere su chi ha ragione e chi torto, su chi ha dato il primo colpo e chi il secondo. Il problema è che non è una guerra, è un genocidio che non ha ucciso. Tu sei, prendi le parti, demonizzi, demonizzi. Non sono vittime innocenti. Se uno non può replicare, evidentemente non avete importanti argomentazioni se non fate parlare. Come no? Fate una brutta figura. Come no? Come no? L'ultima cosa, mi meraviglia la professoressa che di fronte ad una strage oggi in un campo profumo di 400 persone stia citando un ragazzo che ha strappato la bandiera di Israele. Di fronte a 8 mila morti, la professoressa parla di una bandiera strappata. Tutta è la scura al complottismo antiterraneo, vergognoso. Allora, non vergognatevi. E delegittimi, e delegittimi. Non fa parlare. E delegittimi l'esistenza del genere. Laura Gombetti, allora abbassiamo lo studio, perché poi non ne usciamo. Iscriviti al canale.